Musica Si rinnova l'appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli per scoprire quali argomenti andremo a trattare all'interno di questa puntata. A patto che indossino l'uniforme d'ordinanza è quanto proposto da una mozione firmata dai consiglieri di Fratelli d'Italia, Gabriele Veneri, Francesco Torselli e Alessandro Capecchi. L'atto è stato respinto dall'Aula. Noi avevamo fatto una proposta di avvicinare chi gestisce il trasporto pubblico con chi si occupa di sicurezza nella nostra regione. In questo caso sia le forze di polizia provinciale che le guardie giurate ha la condizione che viaggiassero in divisa. Purtroppo oggi il PD ha confermato questa incapacità di cogliere le idee a costo zero perché il PD purtroppo è capace solamente a spendere e a bruciare risorse pubbliche e ha portato un emendamento che a parer nostro era irricevibile. Mentre noi dicevamo che la regione toscana, che è l'organo competente alla gestione del trasporto pubblico, doveva organizzare un tavolo per mettere d'accordo il gestore con chi fa sicurezza in Italia e a costo zero farli viaggiare gratuitamente per essere come detenzione nel trasporto pubblico, il PD ha fatto un emendamento perché ora è una classica, mossa, quella di impegnare il governo a inserire delle nuove risorse, quindi a spendere nuovi soldi, per una cosa che secondo noi invece poteva essere totalmente gratuita. Per il consigliere del PD, Fausto Merlotti, è necessario l'intervento del governo per istituire un fondo che possa ristorare i gestori per i minori introiti. Noi rispetto a questa mozione abbiamo presentato una serie di emendamenti e in narrativa sostitutivi o soppressivi e nell'impegnativa che il collega Veneri ha dichiarato anche in aula accettare per il 99%, salvo le ultime due righe con le quali noi chiedevamo di attivarsi nei confronti del governo perché si desse vita ad un fondo nazionale che consentisse alle regioni di poter ristorare questi mancati introiti ai diversi gestori. Per capirsi si ragiona di 450 mila euro, 500 mila euro l'anno che la regione toscana ad esempio ristora ai gestori di trasporto pubblico locale per poter consentire alle forze dell'ordine di poter viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico locale. Questa è una cosa che ci sta molto molto a cuore e proprio per questo ho annunciato in aula che presenteremo una mozione nostra come gruppo del Partito Democratico e di maggioranza che governa la regione toscana affinché si riprendano quegli emendamenti presentati e ripeto per il 99% accettati dal proponente collega Veneri ma comprensivo anche della richiesta legittima, non fuori luogo, di chiedere al governo di impegnarsi nei confronti delle regioni che hanno questo genere di convenzioni. Ripeto, la Toscana è dal 1998 che ha questa convenzione perché a noi la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico sta molto molto a cuore. Anche per Stefano Scaramelli di Italia Viva è importante che vi sia una misura da parte del governo. È importante che ci sia una misura del governo insieme a una misura regionale che consenta alle Forze dell'Ordine di viaggiare nei mezzi pubblici senza dover pagare il prezzo del trasporto nel momento in cui si recano al lavoro. È un elemento positivo. Credo che si possa arrivare ad un elemento di convergenza nelle prossime settimane se anche da livello nazionale si possa sostenere questa che è una misura che a nostro avviso è positiva. Voto favorevole alla mozione è stato espresso da Marco Stella di Forza Italia. Era una proposta di buonsenso quella di dare la possibilità agli appartenenti delle Forze dell'Ordine di usufruire dei mezzi pubblici gratuiti. Naturalmente quando sono in divisa per andare o uscire dal lavoro. Lo fanno già molte regioni. Lo fa la regione Lombardia, lo fa la regione Abruzzo, lo fa la regione Campania, lo fa la regione Sicilia. Oggi abbiamo scoperto che il Partito Democratico è contro le Forze dell'Ordine. Era di buonsenso per una serie di motivi. Il primo fra l'altro per garantire la sicurezza sui mezzi di trasporto, sui treni, sugli autobus, sul trasporto di linea, sul TPL pubblico, per i cittadini che montano sull'autobus e che molte volte si trovano stagio di borseggiatori, magari di piccola delinquenza, di piccola criminalità. Avere la presenza delle Forze dell'Ordine in divisa sul trasporto pubblico è un deterrente per chi vuole delinquere. Guardate, ci è stato detto che non lo possiamo fare perché costa. A prescindere dal fatto che la sicurezza per il centro-destra e per Forza Italia non è mai un costo. Ma è una cosa che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini. E l'elemento che abbiamo detto è, ma se è un costo, recuperate l'evasione dai biglietti. Noi abbiamo il 24% di persone che salgono su un treno, che salgono su un pulma, che salgono sul trasporto pubblico, che non pagano il biglietto. Basterebbe recuperare quella scifra lì per garantire di viaggiare gratis agli appartenenti delle Forze dell'Ordine e di far viaggiare sicuri i cittadini che scelgono il trasporto pubblico. Favorevole anche il voto di Elisa Tozzi, che ha ricordato di aver firmato un emendamento accolto per inserire in narrativa le Forze Armate. Indubbiamente il tema della sicurezza sui mezzi pubblici di trasporto è un tema centrale. È un tema che oggi vede coinvolti i cittadini, molto spesso donne, persone deboli, che si ritrovano in situazioni anche di evidente pericolo. Quello che chiedeva la mozione era di favorire e di dissuadere, anzi, attraverso la presenza di personale indivisa appartenenti anche agli istituti di vigilanza, che in qualche maniera fossero da dissuasore di certi tipi di comportamenti. Personalmente credo che la presenza delle Forze Armate che possano viaggiare gratuitamente anche sui treni è un segnale anche di attenzione a chi molto spesso porta la divisa e chi spende anche la propria vita proprio per sostenere questo tipo di situazioni. Così non è stato, non c'è stato un approccio costruttivo, si fa una questione di costi quando invece oggi la questione della sicurezza deve essere al centro anche dell'azione politica. Quindi ecco, anche in questo caso riteniamo un'occasione persa e soprattutto un mancato segnale a cittadini dell'attenzione, ripeto, su un tema che oggi invece è fondamentale, garantire la sicurezza degli utenti su autobus e treni. Questo per noi è fondamentale, evidentemente per la maggioranza non lo è. Una mozione in favore dell'artigianato artistico, in particolare degli artigiani del Marmo di Carrara. L'atto è stato presentato dal consigliere del PD Giacomo Bugliani e ha ottenuto il via libera all'unanimità dall'Aula. Il tutto nasce da una vicenda, vicenda che è nata nel territorio di Carrara, nell'ambito dell'attività di un laboratorio artistico e che ha visto la riproduzione del David di Michelangelo. Si è innescato un contenzioso giudiziario che ha portato il Tribunale di Firenze a inibire al laboratorio artistico la divulgazione di quell'immagine riprodotta del David di Michelangelo che in realtà aveva alcune caratteristiche di diversità rispetto all'originale. Il quadro che si sta delineando è un quadro che ha allarmato profondamente gli operatori del settore. Il rischio che, andando per questa direzione e perseverando in questa prospettiva, si possa smantellare un intero settore dell'artigianato, appunto quello dell'artigianato artistico, con particolare riferimento alla riproduzione delle opere scultore, è effettivamente molto elevato. Il problema non riguarda soltanto Carrara, che pur ha un'attività molto intensa nell'ambito dei laboratori artistici del Marmo, ma può riguardare l'intero territorio nazionale. Per questo, con questa mozione, ho voluto chiedere alla Giunta regionale di potersi attivare presso il Ministero affinché possano essere adottate tutte le misure più opportune, affinché, pur nel rispetto della normativa vigente, in particolar modo del Codice dei beni culturali e ambientali, possano mettersi in atto le misure necessarie per garantire questo settore così importante. È stato definito desertificazione bancaria ed è quel fenomeno che sta interessando 26 comuni della Toscana, 7 dei quali nell'Aretino, piccoli centri che rimangono senza uno sportello bancario a causa della chiusura degli stessi. L'argomento è al centro di una mozione a firma dei consiglieri della Lega Marco Casucci ed Elena Meini. Posso citare i dati più recenti. Ormai sono 26 i comuni della Toscana senza servizi bancari all'interno del proprio territorio. Un numero che è rapidamente cresciuto dal 2015 ad oggi. Consideriamo poi che il 16% dei comuni toscani vede un solo sportello bancario. Quindi è ora di intervenire perché purtroppo questo fenomeno, che fino adesso ha toccato soltanto marginalmente la regione toscana, sta crescendo sempre di più. Noi siamo dalla parte della popolazione quella più debole, molti anziani vivono nei piccoli centri e dobbiamo trovare delle risposte. La regione toscana non può assistere spettatore inerte a questo fenomeno. L'impegno di Roma ci deve essere, però anche la regione toscana deve cominciare a riflettere su cosa fare. Ad esempio sostegno ai piccoli comuni dal punto di vista dei servizi bancari per non perdere i servizi banco. Ad esempio possiamo anche immaginare un coordinamento degli enti locali, ma anche una collaborazione puntuale, continua con gli istituti bancari. Occorre che vi siano delle risposte pratiche a questo fenomeno perché altrimenti potrebbe essere veramente tardi, soprattutto a danno di troppi anziani. La Fabi ha lanciato a livello nazionale questo allarme nell'agosto scorso con un report approfondito. Ci sono 4 milioni di italiani che abitano in comuni che non hanno più filiali. In Toscana si parla di 26 comuni, un numero che sembra piccolo, però 50 mila toscani abitano in comuni che non hanno più sportelli bancari. E ci sono 40 comuni con solo uno sportello. È possibile fermarlo? Sì, è possibile fermarlo, ma ci vuole un grosso lavoro da parte degli enti locali, delle regioni, come la regione toscana, di interlocuzione con i grandi gruppi bancari, almeno con le direzioni regionali di questi grandi gruppi bancari che nei piani industriali hanno previsto ulteriori chiusuri di sportelli. Tutto pronto per la terza edizione di Fogliano Book Festival che si svolgerà a Fogliano della Chiana dal 5 al 19 novembre. Per incontrare chi scrive i libri invoglia a leggerli, perché ci sono dietro storie, interpretazioni. E quest'anno abbiamo un bellissimo programma, devo dire. Abbiamo un buon numero di scrittrici donne, ma importanti come Teresa Ciabatti, Chiara Tagliaferri, entrambe finaliste al premio Strega, Federica Bosco che è toscana e Gaia Cenciarelli che è romana. Poi abbiamo personaggi anche importanti come Walter Veltroni, Pupiavati, abbiamo un attore che è Marco Bonini, abbiamo un piccolo gruppo di scrittori romani anche e poi tra i romani l'importante è Miguel Gotor che è l'assessore della cultura del Comune di Roma e parlerà del suo libro sugli anni 70, gli anni di Piombo. L'obiettivo infatti è questo, di portare gente fisicamente a parlare con degli scrittori, perché poi fare la presentazione di un libro è una cosa molto semplice, basta una cassa e un microfono e un po' di pubblico. La cosa difficile è quella di trovare autori, a volte sono più famosi, a volte meno famosi, ma che comunque riescano a avere un contatto con il pubblico. E siamo soddisfatti anche perché nell'anno in cui non abbiamo infatti potuto fare questo festival, all'anno del Covid, molte altre manifestazioni sono state fatte online, comunque non in presenza, noi abbiamo preferito stopparla un anno per poi ripartire l'anno scorso, proprio per questo motivo, perché il bello e lo scopo di questo festival è portare persone in presenza in un contesto culturale come è poi il paese di Foiano della Chiara. L'ambizione del nostro territorio è di provare a fare cultura, cultura pensando ai giovani e facendogli capire quello che forse sanno più di noi, che leggere significa viaggiare, significa sognare, significa andare da un'altra parte rimanendo a casa e questo credo che è un'ambizione di moltissimi. Loro sono stati molto bravi, il livello di quest'anno è davvero di eccezione, speriamo che ci sia la partecipazione di tante persone, ma soprattutto di tanti giovani, di tanti uomini e donne che immaginano nel libro un modo comunque di partecipare al sogno collettivo. Quest'anno abbiamo avuto molte più proposte da vagliare e devo dire anche che abbiamo avuto meno problemi anche nell'interlocuzione diretta con gli artisti. Penso che oggettivamente il Foiano Book Festival si stia segnalando come una delle manifestazioni più interessanti del settore e quindi ancora una volta andiamo di fronte ai nostri sponsor e ai nostri ascoltatori che vengono da tutta l'Italia e siamo sicuri che la prossima edizione sarà ancora migliore di questa. Questa era la nostra ultima intervista, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana. Grazie.